Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi è il 25 dicembre quindi questo video appunto sarà un video molto breve dove voglio augurarvi appunto buon Natale Ormai anche il 2022 sta finendo e oggi appunto è il 25 anche se per me è il 24 sera Comunque vi auguro appunto a tutti quanti un buon Natale Poi ovviamente verso fine mese vedrete anche i video buoni propositi per il 2023 Ci sarà diciamo è un video reso conto su tutto il mio 2022 le cose che dovrò migliorare di me e tutti i nuovi progetti che affronteremo nel 2023 Perché spero sia un anno di innovazione per questo canale ma anche per la mia vita e tutto quanto Infatti sto mettendo giù un sacco di progetti ma comunque vabbè A parte questo ragazzi veramente passate un buon Natale Andate a pranzo con i vostri parenti sfasciatevi Sono vicino alle persone che magari non stanno vivendo un buon periodo Ricordatevi che se volete farvi due risate ci sono un sacco di video sul canale Cercherò di tenervi compagnia in questo nuovo anno che verrà e anche settimana prossima Vi mando un bacione ragazzi mi raccomando divertitevi State con la vostra famiglia mangiate da esplodere Scrivetemi su Instagram magari se volete mandarvi le foto dei cibi che mangiate a Natale Tutto in descrizione ovviamente E niente ragazzi vi voglio un sacco bene Santa Gas è tornato non so se avete visto un video di un tipo due anni fa dove ho fatto il video auguro di Natale L'anno scorso non l'ho fatto veramente assurdo veramente persone orribili Disiscrivetevi al canale Adesso vabbè non prendetemi sulla lettera Vabbè comunque ragazzi vi auguro veramente un buon Natale Vi voglio un sacco bene grazie infinite per tutto il supporto che mi date Veramente preparatevi a nuovissimi progetti Ragazzi vi mando un bacione Buon Natale a tutti e ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video Bella ragazzi Grazie 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 a tutti